...a maggior ragione con una famosa orchestra, grazie a tutti, grazie all'organizzazione che ci ha voluti qua questa sera. Cominciamo la nostra esibizione con un canto sulle montagne. Al pubblico! Al pubblico! Al pubblico! Al pubblico! Al pubblico! Al pubblico! Grazie a tutti. 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 Belluno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.